Ci troviamo davanti alla cappella della Vergine addolorata di Montefano, costruita dai frati Servi di Maria nel Settecento per accogliere l'immagine della Vergine che appunto i frati portarono in questa chiesa quando venne consacrata nel 1703 e questa cappella della dolorata custodisce la memoria di un paese, il paese di Montefano e dei suoi territori attorno a Montefano che ricorda anche le vicende, vicende anche dolorose, conflitti bellici, carestie, epidemie, malattie, quando la Vergine addolorata era un punto di riferimento importante implorando che tutte queste situazioni difficili potessero essere superate. E con noi oggi davanti a questa cappella, a questa immagine, possiamo capire meglio il valore della preghiera. Certamente non preghiamo come due secoli o tre secoli fa, abbiamo migliorato nel nostro modo di pregare perché non dobbiamo ricordare a Dio o alla Vergine quali sono i nostri problemi che già li conosce più che bene, ma dobbiamo essere così ricettivi di tutto quello che Dio continuamente ci insegna e ci comunica perché la nostra preghiera possa veramente essere efficace. Allora non imploriamo più perché Dio intervenga e faccia finire l'epidemia, il male, questo spetta alla scienza, spetta anche ai cittadini che devono anche sapere comportarsi bene, osservando tutte le norme che vengono emanate, ma soprattutto anche alla fede nostra sapendo che il Padre ci promuove, che il Padre potenzia la nostra vita. Questa è la vera preghiera affinché possiamo trovare sempre delle vie nuove per crescere nella concordia, nella collaborazione e nel servizio agli altri e in quell'accoglienza che dimostra che il Padre abita in noi. Quindi vogliamo ringraziare i nostri frati che dal 1700 hanno creato in questo piccolo luogo della Chiesa di Montefano una realtà viva di preghiera, come ricordano anche tutti i cuori che hanno collocato nel passato i montefanesi e le montefanese per ringraziare perché il problema era stato superato. Ecco, penso che questo sia l'aspetto anche molto bello della preghiera, essere sempre riconoscenti, saper sempre dire grazie. Il cuore è la miglior maniera di dirlo, non un cuore soltanto che rimane nella sua materia di argento, ma il cuore di carne che si apre al bene e alla solidarietà con tutti. Buona domenica a tutti e un augurio di bene a tutti voi.